Passo d'addio di Tornese per le strade di Milano, tutt'attorno ai personaggi del Thor, piccoli scommettitori, gente che ricorda ogni genealogia dei puro sangue. Mai nessun cavallo ha avuto una tale scenografia per il suo ritiro dalle corse, mai nessun trottatore ha dato l'addio ai suoi fans sul sagrato di piatto del Duomo. Il fondo però se lo merita, ha vinto 147 corse, ha portato alle casse della sua scuderia 300 milioni e più ancora ne guadagnerà come riproduttore. Ma non basta, Tornese è un mito, uno di quei grandi miti sportivi che parlano sempre inimitabili. Giusto dunque che l'assessore dello sport Gianfranco Crespi, con un gesto letterario e gentile, l'abbia voluto in passerella.